Io racconto sempre una cosa di quando è morto mio padre, no? Noi facevamo finta di non sapere che lui era malato e lui faceva finta con noi di non essere malato, lui è morto a Parigi. Io ho finito di fare uno spettacolo a Milano con Vando Osiris, mamma mi ha chiamato e ha detto vieni subito a Parigi, papà c'è a poco, io ho preso l'aereo, sono arrivato lì e lui mi ha detto guarda adesso c'è un filo di voce, ho il vestito blu, dopo che mi ha fatto queste cose ce ne andiamo a Monte Carlo. Però Cristianè mi raccomando, e lì c'era un'infermiera che puliva la camera. E dice Cristianè mi raccomando, sai Emanuele, tuo fratello è un musicista, un artista, ma tu hai più testa. Stai vicino a mamma, perché mamma è una ragazzina, è più ragazzina di te. Guarda che bel culo che c'è quell'infermiera. Mi voleva far ridere pure in quel momento. E poi lui ti ha detto, dammi bicchiere con whisky, no? E poi mi ha detto, voglio un bicchiere di whisky, ho bevuto, io fuori whisky non lo bevava mai, mi piaceva il vino. Questo whisky e poi dopo con il ghiaccio, e poi a un certo punto il bicchiere ha fatto il ghiaccio là dentro, ha fatto plin. Mi sono girato e poi non ce l'ha più. Stata dura, però insomma si è divertito fino all'ultimo. Questo, vedi, anche con quella battuta, lui voleva farmi ridere fino all'ultimo momento. E così faceva con tutti.